DJ Control Impulse 300 MK2 Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ, Hercules ha appena lanciato il suo nuovo DJ Control Impulse 300 MK2 la versione migliorata del suo controller entry level adesso funziona con Serato e con l'app Juiced DJ inclusa andiamo a vedere che c'è di nuovo Hercules lancia questo nuovo, che poi nuovo non è, questo restyling del DJ Control Impulse 300 in versione MK2 che funziona immediatamente con Serato DJ Lite quindi offrendo tutte le funzionalità più recenti di questo software l'avrete visto anche nei nostri video di Serato incluso l'accesso allo stem in tempo reale quindi separazione fra strumentale e a cappella ne abbiamo parlato tantissimo di questa funzione che ormai sta andando su parecchi software Hercules afferma che l'Inpulse 300 MK2 presenterà anche delle jog wheel migliorate andremo a vedere cuscinetti in gomma migliorati è un aspetto un pochino più cool e premium come saprete bene Hercules punta i suoi prodotti, molti dei suoi prodotti, verso i DJ principianti e così come con alcuni dei suoi controller questa unità ha una funzione beat match guide quindi la guida per mixare, guide luminose integrate direttamente nel controller per aiutare gli utenti ad imparare diciamo così le mosse corrette e sincronizzare e avviare manualmente i brani per la simpatia di molti DJ affermati e ci siamo eccolo qua il DJ Control Impulse 300 MK2 che sarà disponibile a partire dalla fine di gennaio con un prezzo al pubblico di 199,99 euro di uscita è basata come vedete sul successo della Control Impulse 300 e ora possiamo goderci questa nuova versione MK2 che è compatibile con serato e si può iniziare a mixare procedendo rapidamente grazie ai 16 pad 8 per canale a 8 modalità per i pad controller screcciare più facilmente con le manopole jog dimensioni ridotte ma con una buona fluida sensibilità al tocco software serato DJ Lite quindi attenzione DJ Lite è Juiced inclusi ma è compatibile anche con serato DJ Pro la beat match guide che vedete qua la guida per il beat match ti permette di regolare manualmente i brani grazie alle guide luminose integrate ci aiutano a non andare a guardare lo schermo del tuo computer e il tempo ti indica dove posizionare il fader del tempo mentre il beat align ti mostra in che direzione andare a ruotare la manopola jog e infatti accanto a ciascun fader del tempo sono presenti delle frecce a led che permettono agli utenti di andare a regolare manualmente con semplicità i BPM dei brani mi immagino adesso i commenti dei DJ che hanno imparato a mixare ad orecchio e vabbè questa è la tecnologia il guide beat align sotto a ciascuna manopola sono presenti delle frecce a led che aiutano gli utenti a lineare tra i loro i brani e far sì che le loro transizioni risultino perfettamente sincronizzate questo è per imparare a mixare automaticamente diciamo così mentre le jog wheel che vediamo qua sono di 5,9 pollici con sensibilità al tocco quindi 14 cm migliorate per andare a screcciare più facilmente avere una rotazione e un'ampia zona di rilevazione 8 pad come detto con 8 modalità tra cui hot cue, loop, slicer, sample, roll, mod 6, mod 7, mod 8 insomma tutte queste funzioni che sono abbastanza per un controller entry level rack quindi rack di effetti con due manopole di effetti con il dry wet e poi lo slip quantize che vedete qua i tasti loop in e loop out e andando a vedere nello specifico rimane lo shift, il sync, il cue e il play pause il tempo fader abbastanza ridotto il volume del mixer quindi mixer a due canali ovviamente perché il controller ha due canali con preascolto, filtro, passa basso, passa alto frequenze basse, medio, alte, classiche, gain, trim sempre sul canale, idem sul secondo e tasto di caricamento come il tasto browser qua nel centro con l'assistant, l'intelligent music assistant che ti permette di preparare i tuoi mix in maniera semplice e veloce suggerendoti i brani più adatti a ridare i controlli della cuffia, il master e poi il crossfader in basso e non solo, si può mixare anche utilizzando i brani presenti nel tuo computer e provenienti da servizi di musica in streaming quali Beatport, Advanced, BeatSource, SoundCloud Go Plus o Tidal, 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 chiamatelo come volete per quel che riguarda l'audio uscita master 2 RCA non cambia niente quindi uscita cuffia mini jack stereo da 3,5 mm una risoluzione audio di 44 x 24 bit e andiamoci a vedere il video ufficiale dove ci fa vedere questa presentazione di mix easy build up your skills vedete che adesso usa il filtro passa basso, passa alto piano piano se ne va avanti a far vedere gli effetti poi i pad con tutte le varie modalità che vi stavo spiegando il tempo con la guida come vi dicevo per andare su e giù lo fa vedere bene in questo video e poi l'assistente musicale intelligente che ti va a dire quali tracce sono compatibili per andare a suonare la traccia migliore e per chiudere l'attivazione dell'effetto vinile come vedete in questo caso con il slip e va a screcciare con le nuove jog andiamo a vedere la compatibilità per quel che riguarda il software abbiamo bisogno di Microsoft Windows 10 o superiore a 64 bit macOS 10.13 o superiore il processore Intel Core i3 o superiore o Apple M1 AMD Ryzen memoria almeno 4 gigabyte e USB 2 la porta di tipo A o USB-C USB-C con adattatore libero spazio di 5 gigabyte per quel che riguarda contenuto delle scatola e misure contenuto della scatola comprende il cavo, la guida rapida le licenze serato DJ Lite e Juiced è ovviamente il controller che ha un corpo di 480 x 286 x 52 mm per un peso di 1,8 kg non è cambiato tantissimo dalla 300 e alla 300 MK2 le funzioni sostanzialmente sono rimaste intatte ma sono stati aggiunti queste piccole novità e soprattutto serato un po' di considerazioni su questo 300 Hercules MK2 Impulse che è un ottimo prodotto a mio parere che se la va a giocare con la concorrenza fa tutto ciò che deve fare per una console per chi inizia ovviamente ma anche qualcosina di più non stiamo lì a sindacare sulla bitmatch guide sull'assistente di mixaggio oramai anche altre console come Pioneer ma anche altre tantissime avete visto sulle ultime entry level adottano questa strategia dell'aiutino chiamiamolo così per mixare lo so che a molti non piace storgono un po' la bocca ma si può sempre non usare è un po' come lamentarsi dei programmi della televisione quando in mano abbiamo il telecomando e possiamo cambiare in ogni momento anyway è chiaro che anche se vuoi fare il DJ ad un certo livello poi ti serviranno altre competenze la Hercules Impulse 300 MK2 così come la sua precedente credo che avrà un discreto successo di mercato tra i futuri DJs e chi vuole cimentarsi ad assaggiare questo magnifico mondo che come controindicazione può avere solo la voglia di crescere ancora di più ovviamente se ti piacerà aspetto da voi qua sotto i vostri commenti mi raccomando fatemi sapere come sempre la vostra opinione in merito corsi per DJ e corsi di produzione musicale potete fare online tutto con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact oppure tramite le nostre pagine social per chi sono indicati i corsi per chi inizia da zero e vuole intraprendere tutto il percorso di mixaggio come imparare tecniche di mixaggio ma tutto quel che serve per crescere per chi vuole migliorarsi per chi è già bravo ma non riesce ad andare oltre e per chi vuole fare il salto definitivo verso il professionismo consulenze su tutti gli argomenti trattati sul canale compreso quelli burocratici oltre al nostro canale facebook e la nostra pagina instagram abbiamo anche la new entry tiktok vai seguici video cortissimi brevissimi con tutti gli argomenti che sicuramente ti interessano c'è anche la nostra pagina telegram se vuoi notifiche silenziose chat interna è fuori onda il nostro canale youtube ti puoi iscrivere per noi è importantissimo inoltre che essere un attestato di stima ci fa capire che stiamo facendo le cose giuste e per darti sempre di più dacci una motivazione a crescere insieme a te puoi anche abbonarti vatti a vedere la corsia preferenziale che diamo per gli abbonati tantissimi video tutti ovviamente che parlano solamente e solo di dj mondo dei dj produzione e dj's life tutti divisi per playlist quindi molto comodo per andarsi a cercare qualcosa di importante addirittura con il tasto cerca qui puoi cercare tutto quello che ti interessa c'è anche ufficial merchandising con la linea anyway ss4dj iplay what I like o suono solo quello che mi piace vuoi essere informato su tutte le novità del canale in tempo reale clicca sulla campanella puoi mettere anche un mi piace o condividere con i tuoi amici se pensi che tutto questo lavoro tutti questi video possono essere utili per loro spamma glielo lì ci vuoi aiutare lo puoi fare tramite super grazie qua sotto o con il tasto sostieni ss4dj un bel restyling per questa hercules dj control impulse 300 mk2 che va a seguire la precedente con qualche accorgimento in più e un'apertura verso serato dj light compreso ma anche la possibilità di andare sulla pro bene questa è la novità di hercules fatemi sapere come sempre la vostra opinione qua sotto nei commenti è importantissima per testare il mondo e anche per confrontarci nella nostra community da parte di ss4dj e cloud vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una meravigliosa giornata bella carica bella carica vi ricordo l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale per poter crescere andare su e offrirvi sempre tutto questo in tempo reale gratis ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiripi grazie a tutti grazie a tutti